Reazioni discordanti al verdetto di condanna del sottofficiale che ha ucciso un palestinese ferito. Fra queste il ministro della giustizia Lieberman, che ha sempre difeso il militare di Zahal. Una presa di posizione che rivendica, ma chiede ai connazionali di rispettare la decisione della magistratura. Malgrado il difficile verdetto, dice, ricordo a tutti, sia a chi è favorevole, che a quelli a cui non piace, fra questi ci sono io, che siamo obbligati a rispettare la decisione legale. Siamo obbligati a farlo. La popolazione, soprattutto quella che vive nei territori o nelle zone più calde del paese, la pensa diversamente e critica il solo fatto di mettere sul banco degli imputati un soldato. Spero che il presidente o qualcuno alto e in grado perdonino questo ragazzo, dice quest'uomo. Dovrebbe andare in carcere e arrestarci solo un giorno, dovrebbe essere perdonato. È una vergogna che lo Stato di Israele tratti così un soldato. È una vergogna e il mondo intero ci ride dietro. In nessun'altra parte del mondo potrebbe accadere che un terrorista ci attacca, magari ci uccide, e questo potrebbe accadere a chiunque fra noi. È il terrorista che dovrebbe essere sul banco degli imputati. L'azione che ha portato all'uccisione del palestinese è accaduta durante la cosiddetta intifada dei coltelli, quando i palestinesi attaccavano israeliani all'arma bianca. Per questo la percezione in Israele e nel resto del mondo è stata diversa. Il mondo ha visto l'esecuzione di un ferito. Israele la neutralizzazione di un rischio.